Bene? Oh, ci sei? Eh sì sì, ci sono. Ok, vado a casa di Ikki. Dove gliela facciamo la grifata? Piano di sopra? Piano di sotto? Quello di sotto? Ma dove c'è lo smistamento cesta? Ti prego, così gli viene un infarto. Allora, adesso dobbiamo fargli capire l'importanza della natura. Ecco, questo qua è tipo, adesso per accedere al suo impianto di smistamento cesto dovrà tipo scavare attraverso le angurie. Tanto non le usa neanche un cane, che dà una mano. Sì, ma vai a prendere tipo la della... No, no, ma no, no, i vetri, cazzo, le angurie, così tipo, anche se le spacca, tipo, deve comunque disintegrarsi il contro. Naturalmente bisognerà aumentare anche questo muro, bisogna farlo più spesso di qualche cosa. Ecco, tipo così, due strati. C'è dentro la cassa quella la di carb. No, 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 ma non mettere i vetri. Vai nella cassa di carb quella del cibo e prendi tutte le angurie che puoi. Ok. Riempi di angurie, cazzo, così ogni volta che spacca, deve anche avere tipo l'inventario tre volte più pieno, perché gli si moltiplicano in mello slice. Dove c'è la cassa di... In mello slice, non so dove cazzo sia. Forse è qua sopra, vediamo un attimo, vediamo dov'è che carb gli ha messo l'alimentazione, ma mi sa che forse... no, non è qua. Dov'è la... dov'è che si nutre quell'animale schifoso di... Ma mi sa che l'ha rifiutata conoscendolo. No, che faccia di cazzo. E boh, allora dobbiamo... vado un attimino a casa mia a prendere tutti quanti i meloni che posso. Sì, sì, portamene qualcuno anche a me. Ok, aspetta un attimo, dunque, dove cazzo siamo? Eccolo qua, buon appetito da carb, grazie carb. Non è di che uso ottimale stiamo facendo dei tuoi immensi doni. Eccolo qua, melone, 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 eccolo qua. Bene. Bene, bene. Abbiamo tipo varie stacche da 64, aspetta un attimo che... Allora, qui non c'è niente di... no, 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 c'è solamente questo. C'è un po' il vetro intanto. Ok, aspetta. Dov'è? Ichimotor. Che bastardi! E se lo merita così impara... L'altro va detto... ah, no, lui si connette domani sera, credo. Ah, ottimo. Cazzo non è qualcuno. Questo è tuo e questo è tuo. Le ha tirate? Sì. Ok, perché l'ago e quindi purtroppo ha un attimo di disagio. Ecco, tipo anche davanti alle casse, così tutto per bene. Probabilmente gli cresceranno gli schienete perché stiamo anche tipo tappando l'illuminazione, ma cazzo i suoi. Gli esploda tutto. Sai quando... quando loga, tira delle bestemmie. Sicuramente. Aspetta. Che bastardi. Per togliere tutte queste cazzo di anguri ci dovranno impegnare. Guarda quante sono, gli abbiamo riempito un piano di anguri. Aspetta. Che qua ormai sono arrivato al limite, quindi andrò qua sopra. Ecco, fatto. Fino al soffitto, cazzo. Ma aspetta. Eh. Scusami. Eh. Il bello sarà questo. Che cosa? Dovessi... Metterle lì? Con quanto apre? Aspetta che gli seppellisco anche le... le cazzo di... di casse. Ok. Ok, ho tappato quegli altri buchi là. Perfetto. Qua vi ha altri anguri. Ne ho ancora un 40, quindi aspetta un attimo che vediamo di... Io ho ancora 31. Ok. Ah, qui dentro c'è... no cacchio. Eh, non abbiamo più. Una lasciala, ma appunto... Esatto. Che così possa vedere bene il... La quantità di disagio che gli stiamo provocando. Che bastardi. Va benissimo. Icky ti vogliano bene. Icky ti vogliano tanto bene. Tantissimo bene, Icky. Tu non hai idea di quanto... Guarda quanto bene che ti voglia. Ti sei riempito di roba da mangiare la casa. Più bene di così, cazzo. Io l'ho finita. Ricordati di tenerne tre. Tieni ne tre, tieni ne tre. Da metterle. Ok. Ne ho sei. Adesso aspetta. Dunque. Cinque, quattro e tre. E quindi... Eh... Ah, e sigilliamo. Ho capito. Ne mettiamo una, due e tre. Ecco fatto. Icky. Ti vogliamo tanto bene. Eh... Sì. Eh sì. Eh sì. Eh sì. Pino sarà fiero di me. Ma soprattutto Carbo sarà fiero di me. Oddio. Boh, direi che per oggi possiamo anche uscire. Insomma, poi c'era... Non so se era lui che voleva farmi un My Little Pony fuori dal vulcano. Boh, nel dubbio l'abbiamo. Eh, mi sa che ora lo farà sì, My Little Pony. Eh, ma non so se era lui o se era Tarf. Comunque, insomma, direi che i danni li abbiamo compiuti. Chissà se è possibile istruire gli schiavi di Carbo per fare solamente meloni, non so. Boh, vabbè. Boh, chiudiamo, va. Bene, bene, bene. Via, via. Ciao, ciao. 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 Ciao.